Marco Sanzovini, d'obbligo iniziare dal gol divorato. Sì, è stata un'occasione che poteva cambiare la partita, potevamo vincere sicuramente. Io non ho rivisto le immagini, però da quello che mi ricordo come l'ho vissuta io per liberarmi dalla marcatura di Adesio che ce l'avevo davanti, sono andato davanti a lui, passando dietro però sono andato oltre la sua linea e il passaggio mi sono trovato la palla un po' dietro, quindi ho dovuto aprire la gamba destra, però non sono riuscito a dare il colpo, ma solo andare all'impatto con la palla. Così è andata. In molti dicono Sanzovini generosissimo, Sanzovini paga però il fatto che tira la carretta da Pescara Vicenza. Io sono contento, io la tirerei dalla prima alla quarantunesima giornata se uno tira la carretta, ma non è vero perché comunque sono supportato da altri attaccanti bravi che stanno facendo bene, quindi io non mi sento quello che tira la carretta. A me piacerebbe giocare dalla prima alla quarantunesima, come ti ho detto, però fortunatamente non mi sento stanco perché stiamo facendo bene negli allenamenti, ci stanno gestendo bene gli allenatori, i preparatori e lo staff medico, quindi almeno a livello personale non mi sento bene fisicamente. C'è però un problema del gol nel Pescara, le prime squadre della classifica è quella che ha segnato di meno, è un problema di manovra, di sviluppo della manovra o è un problema di interpreti? Ed è strano fare una domanda proprio ad un attaccante? No, no, non è strano, ci mancherebbe. Sì, sì, segniamo un po' meno degli altri, magari subiamo un po' meno, forse siamo una squadra più equilibrata, probabilmente rispetto ad altre squadre, e questo ci ha magari permesso di stare un po' più su rispetto ad altre squadre. Cioè non toglie che dobbiamo essere più precisi sotto porta, sotto porta nell'ultimo passaggio, insomma, nella fase finale della realizzazione. L'altro grande problema è il rendimento esterno, come si cura? Sicura con i punti, con la vittoria innanzitutto. Chiaro che anche i pareggi, insomma, fanno sempre comodo rispetto a una sconfitta, a un'ovvietà, però alle vittorie io penso che ci si abitui solo con la vittoria. Più vinci, più fai punti e più li farai dopo perché acquisisci sicurezza e entusiasmo. Ora c'è la tua ex squadra che ti si pone al cospetto, l'andata a due gol, e al ritorno? Al ritorno speriamo di vincere, poi questa è la cosa basilare importante, che tutti lottiamo come facciamo per l'obiettivo comune, che per noi deve essere sempre la vittoria. Poi è chiaro, c'è anche l'avversario, ci mancherebbe. Però noi non possiamo prescindere da questo obiettivo. Conclusione, 12 partite ancora da disputare, 36 punti possibili da fare. Quanti credi che sia nelle corde del Pescara? Il Pescara può vincere e perdere con chiunque, come qualsiasi squadra di questo campionato. Le previsioni non ne ho mai fatte, neanche a tre o quattro giornate alla volta. Posso solo dire che la squadra è già concentrata per Grosseta.